Che libro ci hai portato? Gulliver Ma quanti anni hai, Sara? Sei Cosa ti piace quando prendi in mano un libro? Le immagini Questa qua Fa vedere? Ma di cosa parla questa immagine? Perché ti piace così tanto? Perché gli lanciano le frecce minuscole e non gli fanno niente Gli fanno solo il solletico Con chi guardi i libri? Con mamma Sempre con mamma? È bello guardare i libri con mamma? Sì Che cosa ti piace quando guardi i libri con mamma? Le emozioni che mi fanno venire Poi la lettura Mi piacciono tutte le cose ed clay Alla piacciono tutte le cose Grazie per la visione